Vecchi cuori bianconeri, ben ritrovati, secondo video di giornata. Ci eravamo visti questa mattina, abbiamo fatto tutto il nostro bel discorso tra lo stipendio di Tiago Motta e quella che è stata la finale di Europa League vinta dall'Atalanta ieri e nel frattempo sono arrivate alcune ufficialità, lato Juve, circa, che andiamo a commentare insieme. Intanto è arrivata la prima ufficialità, che è quella che abbiamo un po' discusso nelle ultime ore, cioè Tiago Motta non allenerà il Bologna l'anno prossimo. È stato comunicato proprio dal sito, una nota della società apparsa su appunto il sito web del Bologna. Tiago Motta non rinnoverà il contratto in scadenza il 30 giugno 2024, ha comunicato alla dirigenza del Bologna l'intenzione di non proseguire insieme e quindi sarà svincolato, sarà un profilo libero di firmare con chi gli pare e piace e chi sarà questa squadra. Beh, di questo abbiamo già parlato abbastanza lungo, provo a dare un indizio. Vediamo se qualcuno prova a capire l'indizio del quale stiamo parlando. Poi il calcio è pieno di sorprese, fino al momento dell'ufficialità può succedere di tutto. Sarei veramente sorpreso a livello allucinante, perché in questo caso tutti i maggiori esperti di calcio mercato stanno andando in quella direzione. Poi sappiamo che metti all'ultimo, secondo, cambi idea. Ripeto, dovrebbe essere così. È un corteggiamento che va avanti da mesi, che dura da mesi. È un corteggiamento al quale Giuntoli aveva pensato addirittura quando era a Napoli, voleva portarlo a Napoli come prossimo allenatore nel posto Spalletti. Ecco, ovviamente quando il direttore sportivo poi cambia la società, si porta dietro anche tutti gli interessamenti del caso. Qualcuno ieri mi diceva, ma come può averla presa Allegri questo fatto che nel frattempo che lui allenava la società, intanto pensava al prossimo allenatore? Ragazzi, fa parte del calcio, no? Sono robe da calcio. Ogni tesserato sa che è giudicato in un qualsiasi momento, a maggior ragione se poi rimane un solo anno di contratto, anche abbastanza oneroso. Se si ha il terzo anno di progetto tecnico, soprattutto quando poi cambia le dirigenze, è abbastanza normale, soprattutto se cambia un direttore sportivo che ci si può senza lavorare intorno. È un po' quello che è accaduto a Pirlo, quando durante il derby di Torino, tra l'altro eravamo in pandemia, quindi non c'era la possibilità di uscire di casa e di spostarsi, ma a forte rimarmi Agnelli aveva incontrato Allegri, ufficialmente, ufficiosamente, una visita di cortesia, un caffè, anche se eravamo in zona rossa mi pare, quindi non ci si poteva spostare se non per ragioni lavorative. E quel derby visto insieme corrispondeva a gettare le basi per il ritorno di Allegri alla Juventus, quindi sono cose che succedono, succederanno sempre, e gli allenatori devono prenderla con semplicità, con naturalezza, perché fa parte, ovviamente, del gioco delle parti del mondo del calcio, banalmente, questa è un po' la lettura che faccio. Aspettiamo che possano esserci le firme, l'ufficialità per Tiago Motta, la Juventus, io mi aspetto sinceramente al termine di questa stagione, tanto Juventus e Bologna in questo weekend andranno a completare ufficialmente il percorso in Serie A, e quindi dopo saranno libere di fare tutti gli annunci del caso. Il Bologna l'ha già fatto, ora manca soltanto l'annuncio della Juve. Tiago Motta andrà a godersi l'ultima partita con questa piazza che ha portato in Champions League dopo una vita intera, e questo lavoro di Tiago Motta rimarrà per sempre immortale, è stato veramente un lavoro di altissimo livello. E Tiago Motta dovrà, per forza di cose, poi iniziare a lavorare con alcuni calciatori che sono già della Juventus, fanno parte della rosa della Juventus, ma che hanno trovato poco spazio nelle relative nazionali. Stiamo parlando di Gatti e di Locatelli. Questi due sono stati esclusi dalla lista dei 30 pre-convocati, inizialmente proprio di Spalletti del Napoli, e quindi non andranno all'europeo. Se dal punto di vista di Gatti ce l'aspettavamo un po' di più, su Locatelli c'è stato un po' più di sorpresa nel pomeriggio quando sono stati annunciati e convocati sulle pagine ufficiali della nazionale italiana. Vi dico la verità, Locatelli non convocato dalla nazionale italiana per me non è una grande sorpresa. Spalletti l'ha sì utilizzato nelle ultime gare, ma l'aveva anche visto spesso e volentieri fuori dai convocati. Non sembrava un giocatore imprescindibile per Spalletti. Io credo che Locatelli venga da una brutta stagione. Complessivamente questi tre anni alla Juve non sono stati all'altezza di quello che ci si poteva aspettare da lui. Ne abbiamo parlato un po' anche ieri. L'ultimo europeo disputato dall'Italia ha vinto con Locatelli titolare, con Locatelli che è andato a guadagnarsi con lo status da giocatore che costa 40 milioni di euro sul mercato ed è uno status importante, perché stiamo parlando di un investimento forte e che oggi la Juventus non andrebbe a fare con quelle cifre perché sono cifre importantissime. Giocatore che sotto De Zerbe aveva mostrato capacità interessanti, è diventato scarso più una volta, non è mai stato forte. Cosa è successo? Qual è la storia di Locatelli? Io semplicemente credo che Locatelli sia andato ad inserirsi all'interno di un contesto molto mediocre come è stata la Juventus degli ultimi tre anni dal punto di vista sportivo, perché qui non stiamo parlando di obiettivi da raggiungere, entrare nei primi quattro, entrare in Champions, qui stiamo parlando di fare la rosa migliore possibile da presentare all'europeo per confermarsi i campioni. Sarà difficilissimo, perché è stato difficilissimo già la prima volta, ma vincere è una cosa, confermarci è ancora più complicato. Ci sono nomi che lasciano un po' perplessi, perché c'è Ricci, c'è Fuloruncio, che hanno comunque fatto delle buone stagioni, in particolar modo questi due li ho seguiti con attenzione perché ce li ho il fantacalcio entrambi, ora quando il calcio si mischia con il fantacalcio è sempre un po' un problema, però sono giocatori che comunque il posto da titolare l'hanno sempre mantenuto. Fuloruncio secondo me è stato anche un giocatore importante quest'anno per l'Elas Verona, è un giocatore che ha aiutato anche nei momenti difficili con qualche gol. Sono giocatori che in nazionale non hanno esperienza, sono giocatori che secondo me verranno tagliati da qui alla fine, non andranno poi effettivamente a fare aspettazione, ma calciatori che verranno valutati, perlomeno in queste ultime ore, prima di comunicare la lista definitiva. Strap on pass invece Calafiori, che è uno dei nomi principali legati all'errore di Tiago Motta e alla Juventus, potrebbe portarsi dietro quello che è stata la sua creatura e che l'altro giorno ha segnato proprio una doppietta in Serie A alla Juventus, con Spalletti che era allo stadio Dallare ed è stato probabilmente stregato dalla crescita di Calafiori, ma soprattutto ragazzi attenzione perché nella lista dei convocati c'è Niccolò Fagioli, che dal punto di vista tecnico, anzi dal punto di vista emotivo appresso, questa scelta mi fa piacere per Fagioli, dal punto di vista tecnico capisco che sia un giocatore forte e quindi abbia senso vederlo nella lista dell'Italia, però se Locatelli non è presente per via di un'annata non giocata ad alti livelli, su Fagioli premo una discussione a parte. Non ha proprio giocato, non è che non ha nemmeno il ridere, non ha giocato male, no, non ha giocato per motivazioni che conosciamo. Non so se Fagioli riuscirà a strappare un pass per gli europei, ripeto, per il giocatore mi farebbe super piacere, ma come mi sarebbe piaciuto vedere anche Locatelli, come mi sarebbe piaciuto vedere Gatti e tutti i giocatori possibili della Juventus, perché poi queste vetrine aprono anche dei scenari interessanti lato cessioni, perché se ci sono dei giocatori ai quali non sei proprio convinto possono mettersi in mostra durante queste competizioni e possono ovviamente diventare delle vere e proprie risorse di mercato per la società che li va a cedere, però non comprendo sinceramente la convocazione di Fagioli, che ripeto, per me è un giocatore molto forte, un giocatore al quale sono molto legato, non so se poi andrà fino in fondo, magari Spalletti ha voluto cercare di capire come sta e vedere il suo grado di preparazione. Vedremo come andrà a finire questa storia, ma non sono sorpreso dall'assenza di Locatelli, che secondo me l'anno prossimo con Tiago Motta andrà a giocarsi quella che è la sua ultima grande possibilità, speranza la Juventus di essere un giocatore importante per la Juve. Voglio dirvi un'altra roba, voglio dirvi un'altra roba, perché io nelle ultime ore sto continuando a sentire che la Juve deve tornare a vincere subito, eccetera, eccetera. Sì, per me la Juve deve sempre avere l'obiettivo di vincere, ma attenzione, perché la Juventus quest'anno inizia un nuovo ciclo sportivo, perché la Juventus di Allegri, che è durata tre anni, è finita quest'anno, Tiago Motta non ha ancora iniziato, Tiago Motta non ha ancora messo mano la Juventus, non è ancora stato ufficializzato, quindi per forza di cose. Però io credo che la Juve oggi sia nella situazione di vivere un po' quello che ha vissuto quando ha ricominciato a vincere post-calciopoli, quando ha aperto quel ciclo post-calciopoli. Arriva una dirigenza, sceglie un allenatore, l'allenatore poi viene sostituito l'anno dopo, se ne sceglie un altro, e quell'allenatore, più che vincere, deve pensare di costruire. Antonio Conte arriva, non era stato chiesto di vincere subito, l'allumento sarebbe poi da due settimi posti, quindi anche situazioni leggermente diverse da quelle attuali, la Juve di oggi è una squadra che ha appena vinto una Coppa Italia, che ha dei giocatori importanti, eccetera, eccetera. Però bisogna andare sul mercato a prendere i giocatori giusti, i giocatori che senti che possano essere quelli decisivi, infatti quell'anno si comprano Vucinic, Lichsteiner, Vidal, Pirlo, si fanno pochi acquisti, però si fanno degli acquisti mirati, fatti bene, poi ci sono stati gli errori, Stigaribia, Elia, insomma giocatori che comunque ci siano dimenticati, Ziegler, Michele Pazienza, cioè non è che li hai azzeccati tutti, ci mancherebbe altro, è impossibile azzeccare tutti, però bisogna andare a prendere 3-4 giocatori di livello, cedere quelli che non pensi e possano più appartenere al progetto tecnico, i vari Alessandro, Kostic, Ken, chi più ne ha più ne metta, a tal proposito, sul canale di Sequel Fieri ho fatto un video in cui vado a elencare tutti i giocatori della Juventus, se vi dico chi terrei e chi no, chi manderei in prestito, eccetera, datevelo a vedere, magari non l'avete ancora visto, ma l'obiettivo della Juve è tornare credibile, tornare una squadra con lavoro, con la fatica, col sudore, giorno dopo giorno, lavoro quotidiano sul campo, quel lavoro lì poi ti porta a vincere, dobbiamo dimenticarci la scorciatoia, prendiamo Cristiano Ronaldo per andare a vincere a Champions, prendiamo Vlaovic per raggiungere lo scuolo, no, dei giocatori ce li abbiamo, alcuni usciranno, alcuni entreranno, ma l'obiettivo oggi è tornare credibili, tornare una squadra vera sul campo, sul rettangolo verde di gioco, questo ci è mancato in questi anni, abbiamo sempre cercato di avvicinarci al sole, anche in maniera un po' con dei movimenti bruschi, no, bisogna mettere da parte questo, cancellare l'ossessione di vincere, poi il vincere viene se lavori bene, questa è la nuova linea che deve seguire la Juve, ed è una linea difficile, proprio perché una squadra che al motto, vincere non è importante, è l'unica cosa che conta, quello dovrebbe avere in testa, ma, ok, sì, la volontà di arrivare, alla vittoria, ma prima di tutto, conoscere l'importanza, riconoscere l'importanza del lavoro, che ti porta a vincere, questa secondo me è la strada giusta per la Juventus, la strada giusta, che può portare quindi a Tiago Motta, che col Bologna in due anni, ha creato quello che ha creato, Giuntoli, è uno che di campo, se l'intende, ne mastica, è un dirigente, che si ha molto di erba bagnata, se vogliamo dirla in questo modo qui, quindi io credo che la Juve si stia muovendo, nel migliore dei modi, per tornare ad essere una società, importante dal punto di vista progettuale, dal punto di vista sportivo, e poi diventerà dal punto di vista economico, di risultati, lavorando bene, questa credo che sia la cosa più importante, questa è la mia speranza, ma anche forse la mia previsione, fatemi sapere la vostra, qui sotto nei commenti, ciao a tutti, e forza Juventus!